A me non piace chiamarla festa, perché secondo me di festa non si può parlare. Mi piacerebbe andare a capire la motivazione dell'ottomaggio, ma poi la religina è molto meglio di me sicuramente. Io sono un piccolo ucciso, il 10 marzo del 1946 e le donne per l'ultima volta votano per eleggere i consigli, abbiamo sentito le voto a crescere, esatto, nel 1946 per l'ultima volta le donne votano per il comune. Adesso, ora, abbiamo bisogno delle voti a rosa per partecipare, per essere presenti nei consigli italiani. Non abbiamo fatto molta strada, se abbiamo bisogno delle voti a rosa, tanta strada non l'abbiamo fatto. E quindi, ecco, per questo motivo non la chiamo festa, ma la chiamo aggiornata, la chiamo momento per ricordare le motivazioni per cui è l'ottomaggio nato e ricordarci che le donne hanno un amore pari agli uomini. Non voglio sicuramente dire di più, non lo penso, non lo penso, non lo penso, anche perché secondo me, insomma, le persone hanno, non uomo o donna, ma una persona, secondo me. e quindi ecco, e volevo ringraziare Regina, Regina Pagliare, che come presidente del presidio del libro ci ha dato la possibilità di fare questo coineligio. Andra Luzzo, che è una poetessa capogestrana, giovane, e spero che ha avuto molti momenti più ampi per sentire le sue poesie. Laura Cominato e Roberta che leggeranno i brani che Lugina ha scelto insieme a loro e Andrea Cavallaro Andrea è 12 anni un giovane Andrea e Ambra sono due persone due ragazzi giovani di Cavalze e volevo dire che all'interno di questo paese ci sono tantissimi talenti che andrebbero scoperti che andrebbero conosciuti e andrebbero valutati proprio da noi, proprio dai Cavalze Rani perché molte volte ci dimentichiamo che all'interno del nostro paese ci sono tanti talenti ecco quindi grazie Ambra e Andrea un grazie molto sicuramente grazie a tutti